Musica E benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovo video Io sono Benzer E oggi siamo qui nel secondo episodio Della serie di Ozone No aspetta come cazzo Si chiama sta mappa non lo so Ozone age Una cosa del genere insomma Comunque è la serie ctm Mini ctm che stiamo portando avanti Ragazzi allora Vi ricordo che il nostro primo obiettivo è quello di raggiungere Il dirigibile Quindi ragazzi io direi di andare avanti Allora ok Vediamo cercare di spawner ok qui c'è uno Allora ragazzi Ho sentato lo spawn ho giocato un attimino Ho ammazzato un sacco di mob E poi lì c'era uno spawner di blaze E si è rimpienato infatti guardate Morto da zombie Blaze Sono caduto del vuoto Creeper, zombie, blaze eccetera Sono morto un bel po' di volte Allora Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Ragno di merda Ragno di merda ragazzi, allora ottimo rompilo, rompilo, rompilo perfetto di qua ok, va bene sto poi giù altro spawner, rompilo perfetto, vai via ho detto pezzo merda Ragazzi, quello è il dirigibile nostro Oh no, mezzo cuore Come cazzo fanno ad avere così tanta vita? Perfetto Allora, ricominciamo Sì, io ho quel sapien lindo appena ripiantato io, non vi preoccupate Non so perché, però c'avevo nell'inventario L'ho ripiantato Allora Ragazzi, quello lì è il nostro dirigibile È il nostro primo obiettivo, ovvero raggiungere il cavolo dirigibile Quindi ragazzi, vediamo di fare il più in fretta possibile Allora Eh, vabbè, gli scheletri pure Allora Eh, vabbè, ho finito pure quello Vai Ok, perfetto Allora, cambiamo spada perché è finita Eh, piccone alla mano Dovrebbe esserci Ok, lì c'è uno spawner E di creeper E sto di Grazie Mi ha fatto lui il lavoro di eliminare quello spawner Lì c'è uno zombie Ammazzalo 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 Quanto fa questa di attack damage? 5 E questa fa 6 Però smite Usiamo prima quella che ho smite perché è contro i non morti Quindi zombie e scheletri Un piccolo in più però me lo prendo al posto delle scale del cavolo Ok ragazzi, allora Vediamo di scegliere Oh no, ho visto Esplodi Grazie Esplodi Grazie Ah cazzo No, mi ha distrutto la cesta che era qua Ah Ho perso ragazzi una cesta Perché purtroppo ho fatto esplodere il primo creeper e mi ha distrutto la cesta Con l'esplosione dell'altro creeper Ha distrutto tipo il contenuto della cesta Non so, almeno è caduto qua forse Qualcosa Ho perso purtroppo ragazzi quella cesta Beh, vabbè Siamo equipaggiati lo stesso abbastanza bene Purtroppo Mario c'era cibo lì dentro Che è l'unica cosa al momento necessaria Allora, cerchiamo di nuovo Allora, degli spawner Lì c'è uno spawner No, 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 no No, no Mezzo qua Piccignaccolo di merda Allora, portiamoci via il letto per favore Così non dobbiamo più rifarci la strada L'ho preso il letto di merda Ah, no, no, no Scusa Ok Via lì Vabbè, cadiamo un attimo Importante non farci troppo male Troppo male Allora, vediamo un attimo Ragazzi, io setterei lo spawn Vicino alla torre là di prima Tanto la zona lì è pulita Non ho distrutto quello Però avete Cioè, allora Discorso Serio? Ok Allora Mob Vai nel vuoto Grazie mille Spawner di scheletri Distruggilo Ottimo Questa ragazzi è una serie molto veloce Una serie rush Come potete vedere Cioè, abbiamo già trovato il dirigibile Gli altri obiettivi sono le cose Le teste di scheletro E le qualcos'altro E i blocchi di redstone rinominati E quindi abbiamo già trovato Il dirigibile Ok, via 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 L'abbiamo spagato di spawner Veloce Ma guarda No, è uno spawn di picciniacoli Quanto infame il creatore di questa mappa Va che sono bastardissimi raga I picciniacoli È una cosa impressionante Perché non li puoi È difficilissimo colpirli Sono velocissimi Sono piccoli Quindi fai fatica a colpirli Vabbè, forse È una creatura veramente infame Proprio il picciniacolo Eh, vabbè Cosa qua di No, ho visto una freccia colare Esplodi, esplodi, esplodi No, devi esplodere Cazzo Sì Bello Ho frecce Quante ne ho? Non ho frecce Ho 15 frecce Ok, è morto quello veloce Nel vuoto Grazie Arrivederci È vivo Ora nel vuoto Allora Vediamo di distruggere No, no, no Distruggi, distruggi, distruggi Spawner di scheleti Spaccato Oddio Oddio Si sta impienando di mobbo quella zona Non mi piace La cosa non mi piace Allora, giriamoci attorno Vediamo di trovare tutti gli spawner di Possibile di ammazzare Allora, qui cosa c'è? Qui c'è una cesta C'è uno spawner Minchia veloce Sì, che culo ci arrivo Però la ragnettina mi dà fastidio Ci metto un anno a spaccarlo veloce No, ho sbagliato Spaccalo Spaccalo No, si è bugato È diventato i maiali Perché non muore? Allora Si è bugato È diventato i maiali Perché escono ancora i ragni di merda? Allora Possiamo distruggere almeno quello spawner Ti chiedo per favore Spaccamelo, vada Dov'è? Ah no, non è diventato i maiali Era un falso maiali Ok, altri pezzi del monumento Zombie school, ok Perfetto Lasciamo giù con il... Dai dai, spaccati Perfetto Allora, vediamo qua Troviamo gli spawner Ragazzi, giriamo attorno Altro spawner Esplodi, vai Grazie Altro spawner Di creeper Sempre Non mi colpire Scalto Grazie mille Uh Oh, che culo Scalto di... Fammi di merda Non ho cibo Dobbiamo andare avanti a rotta Perché... Allora Andiamo avanti ragazzi Quanto stiamo? Ok, nove minuti Allora, quella cesta l'ho presa Ci sono altre robe qui Magari del cibo Uh... Meloni, 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 meloni Meloni uguali al cibo E il cibo is good Il cibo is good for... Noi Dov'è lo spawner ancora? C'è uno spawner di scheletri Dimmi dov'è il tuo spawner di scheletri Che ti apro l'anello L'anello, cioè Non l'hanno, eh Figurato Oh, eccolo qua Lo spawner Prima lo spawner L'ho proprio saltato di tronco L'ho saltato in pieno Il suo scheletro Io non la vedo Io l'ho vista Ok, è morto Cioè ragazzi Questa spada con smite È veramente una bomba Perché uccide gli scheletri In un secondo Perché smite È proprio l'incantamento Contro i non morti Ok Allora Intanto andiamo avanti Un po' a rotto in flash Allora Intanto andiamo avanti Allora Piccone Così Spacchiamo immediato Oh no 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 Mai Mai Veloce Veloce Colpisci Colpisci Spawner 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 Grande Zombie Creeper Creeper Bello Allora Per fortuna Siamo anche abbastanza vicini Dai Allora Vediamo un attimo Di risalire Per fortuna Lo spawn di Creeper È stato distrutto Ragazzi Allora Ora Qui ci sono altri spawner Dov'è lo spawner Oddio Due spawner Addirittura Almeno uno Almeno uno Almeno uno Almeno uno Ok Ammazza questo adesso Secondo spawner Veloce Track Grandissimo Ok ottimo Allora Mangiamo qualcosa Si è rotta l'armatura Vero Già Non ho altra armatura Vabbè No Lo scheletro No Oh Sì 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 Venimi incontro Altro spawner Di scheletri Grande Spaccalo Perfetto No 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 i ragni velenosi No No quanto sei infame No sei infame Colpiscilo No Sei infame Non mi puoi mettere I ragni velenosi Lì Io detesto I ragni velenosi Io Vaffanculo Adesso ragazzi Che ho appena detto ragni Ma se uno gioca A minecraft Ed è arachnofobico Cioè ha paura dei ragni Prende paura Potrebbe avvenire una figata di serie Devo trovare un arachnofobico Per fare un video con lui E' una serie piena di ragni Sono piena di ragni Se abbiamo molti sui Eh Qua c'è uno spawner Non era quelli dei ragni velenosi Vabbè Distruggiamo lo stesso Ho sentito un creeper Difatti vedo le particelle Eh Buongiorno No 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 Vai via E' un blazer Vuoi via Ho blocchi Ho la ghiaia Perfetto Allora Siccome lì adesso è pieno di creeper Guarda Ci scommetto come La morte Allora ammazzo quei due ragni lì Che mi danno fastidio Sono addirittura a livello 32 Guardate che però No Che cazzo dici No Via via Sono velocissimi raga Non riesco a colpirli Non gli colpisco Ma che cazzo Ma no raga no Io li odio i ragni delle caverne Bom Allora Altri spawner Bravo Allora ragazzi Perfetto Dovrebbe Secondo logica Dovrebbe aver distrutto anche lo spawner Spero di si Perché allora mi ha fatto un piacere Gra Ok Giusto Allora Perfavore Non esplodere Grazie Che lì ho visto Ok grazie Allora Ok Stai lì Stai lì No Non osare Sai Osare Ragazzi Ragazzi C'è uno spawner C'è uno spawner Eccolo qui Spaccalo Non mi spaccare la c- Non si è rotto lo spawner Ma che cazzo dici Ma come C'è scusa Mi esploso Un creeper A un blocco Da uno spawner Come mai non è morto lo spawner Se non è esploso anche lui Choco da l'occo Choco da l'occo Ah no Ok bene Esploso il creeper Allora Ragazzi C'è un problema Allora Cibo 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 Voglio il cibo Vai via La pizzazzola E il metto buono Cibo Cibo mi piace Grande Le torce E il resto Non mi pare di importanza In questa posizione qua No Ok Ragazzi Io vi dico Che anche per questo episodio è tutto Vi ringrazio Per la visione Vi ricordo di lasciare un mi piace Se vi è piaciuto il video Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Di seguirmi su Facebook E Instagram Link è in descrizione Noi ci vediamo presto In un nuovo video Ciao ragazzi